E' stato scritto che esistono due storie, quella ufficiale che ci viene insegnata e quella segreta, dove si trovano le vere cause degli avvenimenti. Qual è la vera storia di Napoli? A questo interrogativo cerca di rispondere Napoli la storia, film o documentario in 3D voluto da Luciano De Fraia, il poliedrico regista e autore scomparso nel giugno scorso. Il video è stato presentato in anteprima nazionale a Napoli nel teatrino di corte di Palazzo Reale. Un nuovo regno dal viceregno all'unità d'Italia completa è un progetto di ampio respiro, nato da una miscela tra ricostruzioni virtuali tridimensionali basate su cartografie storiche e rilievi attuali e riprese di beni archeologici, architettonici e artistici del passato e del presente. Napoli la storia volume 2 copre la storia di Napoli dalle origini al 1637 e vede la partecipazione di personalità autorevoli quali Nicola Spinosa, lo storico Paolo Frascani, l'architetto Paolo Mascilli Migliorini e l'attore Peppe Barra. Raccontata come un giallo, la storia di Napoli grazie anche alla tecnica del 3D restituisce ai nostri occhi gli scenari delle sue diverse epoche, rivelando particolari inediti per tentare di rispondere oggi ai tanti problemi di una città ricca, affascinante e complessa.